Liberazioni interiori Centro spirituale Frattocchie, giugno 2000 a cura di VB Guida L'umano di oggi ha un'intelligenza maggiore rispetto all'inizio e l'intuito ad aver preso spazio in te. Sei bravo in matematica ma non conosci la geografia e indice di ottima capacità di concentrazione e poca volontà nel ricordare tappe e siti molecolari che non richiedono alcun movimento in te. Ecco come andate avanti a livello scientifico. Il vostro procedere in quello che chiamate tecnologia e scienza va di pari passo alla vostra conoscenza interiore del vostro mondo animico. Non siete pronti per il teletrasporto ma lo sarete nel momento in cui ne capirete il meccanismo e capirne il meccanismo significa essere arrivati ad alcune scelte e liberazioni interiori.